Ok ragazzi allora vi faccio vedere una cosa Guardate qui, questa mattina mi è arrivata una misteriosa scatola nera Guardiamola meglio, che cosa potrà mai esserci qui dentro? È molto grande, anche abbastanza pesante Ok, direi che è arrivato il momento di aprirla Ma prima distruggete di pollicioni in su questo video E superiamo gli 8000 mi piace per un altro unboxing misterioso Detto questo, unboxing time Non appena tiriamo la scatola abbiamo un primo indizio Per capire che cosa potrebbe esserci dentro Ok, vedere una scatola completamente nera Dove c'è solo scritto YouTube Qualcosa di veramente bellissimo Ho raggiunto da poco il milione di iscritti Quindi potrei aspettarmi di tutto Magari c'è tipo un biglietto da un milione di dollari Se Jumpy ti piacerebbe Va bene ma vediamo meglio la scatola E poi procediamo con lo spacchettamento Perché davvero non vedo più l'ora Ok, qui abbiamo la misteriosa scatola nera Devo dire che questa scatola qui Si è fatta un bel viaggio Perché viene dagli Stati Uniti d'America Adesso direi proprio che è arrivato il momento di spacchettare Mi dispiace che mi abbiano attaccato tutti questi cazzo di adesivi Sopra il logo di YouTube E non dietro dove non c'è scritto un cavolo Mi spiegate perché? Perché l'avete fatto? Prendiamo il mio magico coltellino e... Sbustiamo Togliamo questo scotch Olè Ci siamo È arrivato finalmente il momento di vedere che cosa c'è qui dentro La cosa si fa sempre più misteriosa Penso che quando avrò tolto questa pellicola qui Finalmente vedremo Ragazzi intravedo qualcosa di golden Guardiamo qui Ok, sì C'è qualcosa di molto splendente E mi piace Bene Allora 3, 2, 1 Oh madonna mia Ve lo giuro In questo momento ho i brividi Perché aspettavo quello che c'è qui dentro da non so quanto tempo Io comincerei leggendo la lettera che c'è lì dentro Spero di non emozionarmi Sei più grande di Vancouver Sei più grande di Venezia E sei perfino più grande di Las Vegas Un milione di iscritti Forse immaginavi quel giorno da tanto tempo O forse non ci hai mai pensato Beh, devo dire che no Non ci avevo mai pensato Quando ho aperto il canale Proprio mai nella vita Già se raggiungevo mille iscritti Era un sogno Siamo incredibilmente fieri di quello che hai fatto E quindi ti regaliamo il Gold Creator Award Come premio Non vediamo l'ora che tu raggiunga il prossimo traguardo I 10 milioni di iscritti Cosa? 10 milioni? Sembra lontano, vero? Ma ricorda il giorno quando hai cominciato Non ti aspettavi di arrivare a un milione Non è così? Continua a sognare Continua a creare Susan, sei al di YouTube Delle parole veramente emozionanti Spostiamo questo Golden Button Che lo aspettavo da una vita Ne vogliamo parlare? Quanto è grande? Sì, rispetto ai due Silver Button che ho in casa Questo è veramente immenso Ecco a voi il Golden Button In tutto il suo splendore Certo, io me l'aspettavo figo Ma dal vivo ragazzi Che roba è? Sarà che io, beh, il Golden Lo sapete Lo amo abbastanza La parte che mi piace di più, beh, è questa qui Perché è proprio a specchio È completamente d'oro Poi qui sotto c'è scritto Presented to Golden Jumpy For passing 1 million subscribers Che dire ragazzi Penso che questo sia la perfezione Cosa c'è di meglio del Golden Button Per Golden Jumpy? O quello che si ottiene a 100 milioni? No Il Golden Button Solo per il fatto che sia Golden È quanto c'è di meglio per Golden Jumpy? Beh ragazzi Siamo giunti al termine di questo video E che posso dire? Guardate quanto è Golden Cavolate a parte Grazie mille YouTube Per questo premio Veramente qualcosa di fantastico Non vedo l'ora di appendermelo da qualche parte Qui dentro ragazzi Ci sono oltre 10 anni di YouTube Oltre 1000 video Questo coso qui Ragazzi Rappresenta tantissimo per me Ci siamo giunti anche oggi Al termine di questo video Anzi di questo speciale Spero davvero con tutto il cuore Che vi sia piaciuto Detto questo Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Per trovare moltissima altra roba Seguitemi sulla mia pagina Facebook Link è in cima alla descrizione Lì potete chiarirmi tutto ciò che volete E noi come al solito Ci vediamo nel prossimo video O nel prossimo speciale Se ci sarà A presto A presto A presto A presto A presto